Travolto sulla Nettunense, muore un 53enne. Troppi incidenti sulla via Ardeatina d'Ansio, città insieme, chiede i dossi. Covid, a Nettuno un nuovo caso. Post sullo straniero, il PD in rotta con Lina Giannino. Per i ragazzi del Virgilio, nuova visita didattica al porto di Anzio per il progetto Scuole in Porto. Palla a nuoto, l'Anzio Waterpolis batte l'acqua chiara a Napoli e vola in finale per l'A1. Salve e ben ritrovati con la nostra edizione locale del TG. Cominciamo subito dalle notizie, andiamo a vedere la prima notizia. Tragedia sulla Nettunense in zona Campo di Carne. Travolto da un'auto, muore un 53enne. Proprio qui la tragedia sulla Nettunense a Campo di Carne. Mentre passeggiava un uomo è stato investito da un'auto, da una Volkswagen Taureg. Un incidente terribile che ha portato alla morte di un 53enne di Roma deceduto per le ferite riportate. L'incidente si è verificato sabato sera intorno alle 22.30 all'altezza del borgo di Aprilia. Ad intervenire in poco tempo i soccorsi del 118 ma purtroppo non sono riusciti a salvare la vita dell'uomo. Sul luogo dell'investimento sono arrivati anche i carabinieri del reparto territoriale allertati pochi minuti prima dell'impatto fatale da una segnalazione che parlava di un uomo a centro strada sulla Nettunense che è risultato essere proprio lo sfortunato 53enne. Per questo motivo i carabinieri dopo aver eseguito i rilievi e ascoltato il conducente della Volkswagen stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Sul luogo è arrivata anche la polizia mortuaria. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'esame autoptico potrebbe fare maggiore chiarezza sulla morte del 53enne. Seguiranno appunto aggiornamenti. Troppi incidenti. Inviata alla polizia locale di Anzio una lettera dell'Associazione Città Insieme per chiedere controlli sulla via Ardeatina. È stata inviata alla polizia locale di Anzio una lettera dell'Associazione Città Insieme per chiedere controlli sulla via Ardeatina, spesso teatro di incidenti. Il ripetersi di incidenti, di cui quello del 20 giugno è particolarmente serio nel tratto di via Ardeatina che dal semaforo di Lavinio Mare esce dall'abitato in direzione Roma, sta attestando vive preoccupazioni. Ci viene da più parti segnalato che le cause più frequenti sono l'eccessiva velocità dei veicoli che lasciano la città e la scarsa visibilità per chi si immette nella strada dovuta al diffuso posteggio a ridosso delle proprietà, anche sui marciapiedi quanto questi ci sono. Con la presente vogliamo quindi richiamare l'attenzione delle autorità comunali preposte alla sicurezza stradale perché vogliano prendere in considerazione interventi mirati a ridurre la suddetta pericolosità. A nostro avviso sarebbe particolarmente opportuno adottare criteri di limitazione della velocità che siano realmente efficaci sia verso i veicoli che i motocicli e siano anche di rapida attuazione in vista della ormai iniziata stagione balneare. Installare una serie di dossi artificiali ci sembra una possibilità da valutare. Covid, a Nettuno un nuovo caso, mentre nel Lazio l'indice di positività è allo 0,6%. A Nettuno si registra un nuovo caso di coronavirus che è trattato in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi sono 26 di cui nessuno ricoverato. Nel Lazio su oltre 5.000 tamponi e quasi 5.000 antigenici per un totale di oltre 10.000 test si registrano 71 nuovi casi positivi. I decessi sono 3, i ricoverati sono 295, i guariti sono 162, le terapie intensive sono 76. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,3% ma considerando anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,6%. Così in una nota la Regione Lazio. Ancora fa discutere il post sullo straniero della consigliera del PD di Anzio, Lina Giannino. Mentre in tutta Italia si discute dell'esito delle primarie e dell'affluenza ad Anzio, il PD è investito dalla polemica scatenata da un post del consigliere di Anzio, Lina Giannino. Un post che raccontava con toni accesi la pessima esperienza del consigliere comunale con l'affitto di un'abitazione ad un cittadino egiziano. Ieri la notizia della reazione della Lega, ma le polemiche non finiscono. Infatti a quanto pare ben prima della Lega anche il PD romano si è accorto del commento ed ha chiesto alla consigliera la rimozione immediata con toni non proprio amichevoli. A rivelarlo è l'ex presidente della Regione Lazio, Francesco Storace, che tratta la vicenda con una certa ironia. Sul Corriere dell'Umbria, a partire dal titolo dell'articolo, ai compagni non far sapere che nel PD ce l'hanno con l'africano. Povera compagna Lina Giannino, capogruppo del PD di Anzio in provincia di Roma, scrive Storace. L'egiziano a cui aveva affittato la casa gliela distrutta. Lei se ne è lamentata pubblicamente, ma poi i capi del PD le hanno imposto di fare marcia indietro. Perché per il PD di Letta lo straniero ha sempre ragione. Da Anzio per oggi è tutto. Linea allo studio. Per i ragazzi del Virgilio, nuova visita didattica al porto di Anzio per il progetto Scuole in Porto. Si è svolta ieri mattina, alle 10 circa, la nuova visita didattica degli studenti del territorio nell'ambito del progetto Scuole in Porto. Tale progetto è stato avviato nei mesi scorsi tra la Capodanzio SPA e l'assessorato alla pubblica istruzione del comune di Anzio. I ragazzi della secondaria di primo grado Virgilio hanno incontrato i dipendenti della Capodanzio in totale sicurezza e nel massimo rispetto della normativa anti-Covid ed hanno potuto vedere da vicino il funzionamento della struttura operativa di Anzio. Gli studenti hanno ricevuto una lezione di educazione di marineria che consiste nella spiegazione delle funzioni dei fanali dell'ingresso in porto e dei fari, nell'addestramento sui nodi d'ormeggio con conseguente prova pratica e nella spiegazione sulla sicurezza a bordo. Di particolare importanza è stata la prova di comunicazione con il VHF Radio di Bordo in cui un marinaio a terra insieme ad un altro a bordo ad una barca hanno simulato il botta e risposta via radio di una richiesta per un ormeggio in porto. Di notevole rilevanza è stata l'educazione ambientale quindi la sensibilizzazione dei ragazzi per il plastic free in mare. Parliamo adesso di sport, di palla a nuoto. L'Anzio Waterpolis batte l'acqua chiara a Napoli e vola in finale per la Serie A1. Si sapeva che sarebbe stata una partita intensa. La squadra partenopea l'ha giocata fino alla fine. Complimenti alla formazione di mister Occhiello per aver tenuto testa fino alla fine alle compagini laziali. Una partita che si è risolta nel finale grazie all'esperienza dei ragazzi di mister Tofani, la zampata vincente di Federico Lapenna, a pochi secondi dalla fine ha decretato la vittoria ed il passaggio alla finalissima dell'Anzio Waterpolis. Adesso testa la finale in due gare contro il Bologna, con gara 1 ad Anzio sabato 26 giugno e da Bologna il ritorno sabato 3 luglio. Coach Tofani potrà preparare al meglio nei prossimi giorni la squadra a livello fisico e mentale. Questa era l'ultima notizia. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi rimando alle prossime edizioni del nostro Tg locale. Grazie a tutti.